Quarta giornata con flussi di imbarco separati a Rialto nella linea 2 a CTV, direzione Ferrovia e Piazzale Roma. E non sono mancati disagi per i turisti costretti in coda. I possessori di tessera IMOB, i passeggeri in carrozzina e le persone con passeggini hanno a disposizione un corridoio e una sala d'attesa diversa rispetto ai turisti. La separazione, attiva da mezzogiorno fino alle 19 di ogni giorno, riguarda anche la sala d'imbarco attraverso un cancelletto apribile che dividerà le due differenti tipologie di viaggiatori pubblici. L'assessore al turismo, Roberto Pancera, ha spiegato che la scelta ha lo scopo di tutelare sia i residenti che i turisti. I veneziani, infatti, hanno spesso la necessità di prendere il vaporetto di corsa per non perdere la coincidenza con l'autobus o con il treno, mentre i turisti devono più che altro preoccuparsi delle valigie, spesso ingombranti, che portano con loro e che sono causa di spintoni e litigi nei battelli sempre stracolmi, specie in questo periodo in cui Venezia ospita migliaia di persone da tutto il mondo. Dopo qualche giorno di sperimentazioni, i dipendenti a CTV finora raccontano che le code sono aumentate, perché a gestire l'ingente numero di persone che tutti i giorni prende il vaporetto a Rialto sarebbe un solo operatore, che nelle ore di punta rischia di non riuscire a far fronte al flusso di persone, rallentando notevolmente la salita al battello. L'assessore alla mobilità e trasporti, Ugo Bergamo, ha annunciato che l'imbarco differenziato a Rialto è solo l'inizio di un lungo processo che vedrà la realizzazione dei nuovi imbarcaderi di Piazzale Roma e Ferrovia, che saranno installati nell'ottica della gestione dei flussi e che l'amministrazione spera di porre in opera prima della fine dell'anno.